Venezia e la sua terraferma sono una sola grande città per il sindaco Luigi Brugnaro, ma non quando si tratta di vietare la circolazione delle bici in centro storico. Nella delibera di giunta, discussa poche ore fa dalla commissione competente in consiglio comunale, i cittadini della terraferma sono trattati al pari dei turisti provenienti dai quattro angoli del globo. Quello che ho contestato in questo momento è il fatto che non vengano trattati in maniera uguale i cittadini di tutto il comune. Quindi uno, insomma, un cittadino di Mestre o di Marghera o di Favaro che voglia raggiungere la città storica, la città d'acqua in bici in questo momento non potrà più farlo se non lasciando la bici a Piazzale Roma dove adesso non sussiste ancora un parcheggio comunque custodito. Queste discriminazioni tra cittadini dello stesso comune sono inaccettabili, tuona la consigliera PD Monica Sambo. Per quanto riguarda i turisti si può invece ragionare, ma prima di rendere attivo il divieto bisognerebbe assicurarsi che gli itinerari cicloturistici come quello di Sant'Erasmo restino raggiungibili. Il turismo anche da questo punto di vista sta cambiando, bisogna anche in qualche maniera favorire chi decide di utilizzare questo mezzo sostenibile, quindi non è quella la volontà di delegittimare questa scelta. Questa modifica del regolamento, rilancia Sambo, potrebbe anzi essere l'occasione per prevedere finalmente la possibilità per i bambini di usare la bici in alcune aree circoscritte come Sant'Ele e Campo San Polo. Mi sembra che sia una proposta che sia stata accolta anche dalla maggioranza e quindi speriamo che da questo punto di vista gli esidenti e soprattutto i bambini possano essere facilitati. Con questo provvedimento, aggiunge Davide Scano del Movimento 5 Stelle, l'amministrazione rivela una volta di più la sua vera idea di città. Il problema per il sindaco non sono i venditori abusivi, le guide turistiche abusive, gli intromettitori del tronchetto, il traffico acqueo, sono le biciclette. Ovviamente a Venezia, come parco tematico, non possono circolare le bici. Non si sono mai viste infatti le biciclette ad esempio a Gardeland e quindi perché si dovrebbero vedere a Venisland. Venezia non è più considerata una città normale e quindi anche un oggetto irrilevante e non impattante come la bicicletta dà fastidio ai veneziani e dà fastidio soprattutto all'amministrazione che addita i ciclisti come se fossero il più grande problema del centro storico quando in realtà non risolve tutti i problemi che invece ci sono.